Prosegue in maniera sistematica l'attività di controllo svolta dal personale della Capitaneria di Porto di Siracusa a tutela delle risorse ittiche nel rispetto della normativa. Oggetto dei controlli ancora una volta i pescatori subacquei individuati in attività di pesca in orario notturno dotati di autorespiratori. La chiamata pervenuta alla sala operativa segnalava la presenza in località Gallina nel comune di Avola tre soggetti a bordo di un gommone in abbigliamento subacqueo dotati di mezzi ausiliari di respirazione. Nell'area in questione il personale della Capitaneria di Porto si è appostato in attesa del rientro dei pescatori subacquei. Difatti dopo qualche ora il gommone faceva rientro in prossimità del punto in cui era parcheggiata l'autovettura. Difatti dopo qualche ora il gommone faceva rientro. Da esso veniva scaricata l'attrezzatura e fatto sbarcare uno dei sub mentre gli altri due restavano a bordo riprendendo la navigazione verso Sulde. Il pescatore subacqueo ormai a terra è stato fermato dal personale militare e trovato in possesso di attrezzatura da pesca consistente in quattro coppie di bombole, tre erogatori, due fucili subacquei completi di Fiocina e un giubbotto ad assetto variabile, tutto materiale sottoposto a sequestro amministrativo. Tramite il soggetto fermato i militari sono riusciti a risalire al luogo di destinazione del natante dove gli stessi militari si sono recati riuscendo in tal modo a individuare anche gli altri due soggetti. Tutti e tre i soggetti sono stati sanzionati per violazione delle vigenti disposizioni di legge in materia di pesca sportiva subacquea. Ad Augusta in Viala America un anziano che stava passeggiando con il suo cagnolino è stato avvicinato da una donna, la quale senza dire nulla e con azione repentina ha afferrato il cucciolo e lo ha sottratto al padrone, dileguandosi con la propria autovettura per le vie cittadine e lasciando sul posto attonita la vittima. Una volta che l'uomo si è ripreso dallo shock si è presentato presso gli uffici della locale stazione Carabinieri per denunciare quanto avvenuto. I militari hanno quindi avviato gli accertamenti che hanno in breve portato al rintraccio della donna riconosciuta appartenente ad un'associazione animalista. La signora ha riferito ai Carabinieri di non voler restituire il cagnolino al proprietario poiché secondo lei non curava in modo appropriato il benessere dell'animale a suo giudizio malnutrito e maltrattato. I Carabinieri hanno verificato tuttavia che le accuse della donna erano infondate in quanto smentite dal personale medico veterinario che poco prima dell'episodio su richiesta del denunciante aveva visitato l'animale per le procedure di regolarizzazione e apposizione del microchip. La donna è stata quindi denunciata all'autorità giudiziaria a Retusea per furto.